Gianna Comunica insieme al Consorzio Euromar presieduto da Giovanni Ruocco lancia una campagna di sensibilizzazione per dare luce al porto turistico di Agropoli, una realtà importantissima per l'economia del territorio dallo straordinario potenziale di crescita e occupazione. Nei messaggi concepiti per la campagna sono espressi i punti di forza del porto come leve competitive in termini di benchmarking con le altre realtà esistenti che lo rendono unico per caratteristiche posizione geografica, storie ed esperienze da vivere. L'headline concepito il tuo porto nel Cilento si esplica in 21 messaggi risposta ad una domanda chiara perché ormeggiare da noi? I messaggi accompagnati da foto del territorio raccontano tutto. Chiunque voglia contribuire ad ampliare la risonanza del progetto e dare un contributo può scrivere a infochiocciolagiannacomunica.eu o contattare il numero 0974 826838.